Il contributo dal titolo A Resilient Decisional Model for the Evaluation of Investment in an Ecological Perspective è condotto in collaborazione con i professori Pierluigi Morano del Politecnico di Bari, Maria Rosaria Guarini e Francesco Tajani dell'Università La Sapienza di Roma e il dottore di ricerca Francesco Sica dell'Università La Sapienza di Roma. Si inserisce nell'ambito degli strumenti di valutazione in grado di guidare la predisposizione di piani e progetti urbani in linea con i dettami e le disposizioni programmatiche recentemente stabilite nell'European Green Deal a livello europeo e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di rilevante importanza sia per la ripresa economica del nostro Paese che per il suo sviluppo futuro. La presentazione del contributo sarà condotta dalla sottoscritta dottorana di ricerca in estimo e valutazione presso l'Università La Sapienza di Roma e dal dottore di ricerca Francesco Sica. I contenuti della presentazione seguono la struttura e l'articolazione della ricerca proposta esplicitando in primis l'obiettivo del lavoro all'interno del quadro attuale inerente allo sviluppo urbano sostenibile con particolare riferimento all'aspetto della transizione ecologica e di come quest'ultima sia declinata nei documenti programmatici di riferimento a livello internazionale e nazionale per poi procedere alla descrizione delle caratteristiche del modello valutativo proposto terminando infine con i possibili sviluppi del lavoro. La ricerca si propone di definire i presupposti metodologici per la costruzione di modelli decisionali resilienti, altresiddetti resilient decisional models, di supporto alle scelte progettuali di investimento di operatori pubblici e privati finalizzati alle trasformazioni delle città, tali da consentire di portare in conto le istanze ambientali in termini di tutela degli ecosistemi urbani esistenti ed inclusione sociale del territorio. L'elaborazione dei modelli decisionali resilienti che si propone mutua le regole logico-formali proprie delle approcci d'analisi marcoviani. Mediante queste tecniche infatti sarà possibile descrivere la probabilità di transizione ecologica dello stato urbano e territoriale di riferimento in funzione delle connotazioni economiche, sociali ed ambientali specifiche. Le città infatti rappresentano un luogo dove le attuali sfide dello sviluppo urbano prendono forma nella misura di azioni strategiche volta a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità promossi dall'Agenda 2030 e dall'European New Green Deal a scala internazionale che confluiscono nel quadro nazionale di riferimento attraverso i documenti della Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La transizione ecologica è uno dei tre pilastri fondamentali su cui si fonde e struttura il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza definito nell'ottica di una più ampia e ambiziosa strategia per l'ammodernamento del Paese. Il Governo intende infatti aggiornare le strategie nazionali in tema di transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politica per le nuove generazioni, l'infanzia e i giovani. In che modo dunque i decision maker possono adottare tali principi ed essere supportati nella predisposizione e programmazione di iniziative di trasformazione urbana che siano coerenti con gli attuali obiettivi di sviluppo urbano? Alla luce del quadro introduttivo precedentemente descritto risulta quanto mai poggente la necessità di supportare i decision maker nell'atto di formulare giudizi di convenienza circa gli investimenti da correnessere per lo sviluppo del territorio, secondo principi ispirati alla digitalization, innovation, ecological transition, social inclusion, nonché alla capacità di conformarsi alle dinamiche evolutive del contesto decisionale di riferimento. Si propone pertanto un framework di analisi a supporto di iniziative valutate in chiave multicriteriale, in una prospettiva adattiva e resiliente a cambiamenti improvvisi delle caratteristiche socio-economiche ambientali di base. Il framework proposto individuo apparato logico-metodologico ed operativo per la costruzione di modelli decisionali esilienti. Per la definizione di modelli decisionali connotati da formalismi logici matematici rigorosi e razionali è possibile ricorrere all'uso congiunto e non di tecniche valutative multicriteriali, con strumenti arfanumerici basati sull'implementazione di algoritmi di ottimizzazione. Dalla loro combinazione, i decision maker hanno maggiormente modo di variare le alternative valutandole in una prospettiva multidimensionale e scegliere tra esse tramite tools costruiti portando in conto vincoli economici e finanziari propri del caso valutativo da risolvere e delle caratteristiche del progetto da realizzare sul territorio. Va da sé che la soluzione possibile non costituirà soluzione ottima in quanto affetta da incertezze legate agli improvvisi cambiamenti di stato, di tipo socio-economico, ambientale, di natura di per sé imprevedibile. Proprio in base a tale incertezza, insita in forme decisionali prurime, è dopo fare uso anche di algoritmi di simulazione che consentano di misurare il livello di transizione di uno stato di riferimento ad un altro. Nel caso dei progetti di trasformazione insediativa, ovvero di valutare la probabilità di transizione, di cambiamento di uso del suolo per effetto dell'iesimo progetto, secondo una logica multicriteriale e nel rispetto di target di sostenibilità. Molti algoritmi di simulazione sono ispirati ai principi epistemologici delle cateti di Markov che razionalizzano il processo di randomizzazione dei processi stocastici di variabilità dei valori di un incognito del problema, tra questi il simulated annealing algorithm. Tale algoritmo, il cui fluo analysis è illustrato nella presente slide, si rifà al contributo di Metropolis del 1953, in cui si propone il Metropolis criterion quale parametro analitico di riferimento per la misurazione della probabilità di transizione delle caratteristiche di uno stato di riferimento ad un altro. Nel caso di interventi di trasformazione urbana valorati in chiave sostenibile per la transizione ecologica della città, tale criterio è applicabile con riguardo alla probabilità di cambiamento di uso del suolo da una destinazione funzionale ad un'altra per effetto dell'iesimo progetto e del corrispondente valore di costo. Nella logica del simulated annealing algorithm, i costi relativi al progetto dedicato al cambiamento di destinazione d'uso del suolo identificano l'energy level dello stato trasformativo di riferimento ex ante ed ex post intervento considerato. I modelli decisionali resilienti e sviluppati potranno essere implementati per razionalizzare le scelte sull'uso dei suoli, verificando ex ante la fattibilità delle trasformazioni secondo i diversi aspetti della sostenibilità, per coadiuvare in fase di attuazione gli operatori pubblici e privati nelle contrattazioni dell'interesse in gioco, definendo le misure dei parametri di equilibrio della trasformazione, ovvero delle reciproche convenienze tenendo conto delle connotazioni ambientali e sociali nel contesto di intervento, per effettuare l'analisi di sensibilità delle soluzioni di intervento isolando i punti critici che potrebbero ostacolare la loro realizzazione in caso di improvvisi shock degli scenari inizialmente ipotizzati, per verificare ex post la validità delle soluzioni di progetto selezionate nel rispetto di prestabiliti targets ambientali e sociali di riferimento.